Io spero che il nostro sindaco rifletta, che si metta una mano nel cuore e ripensi a questa decisione. Questo l'appello dei commercianti di Piazza Grande che avevamo raccolto, contraria all'edizione straordinaria della giostra del Saracino che si correrà in notturna il 27 agosto. Penso che ripensarci, ormai l'annuncio è stato fatto e sia impensabile. Sulla posticipazione vediamo, stiamo verificando che tempi siano necessari per il montaggio delle tribune e può darsi che venga posticipato eventualmente l'allestimento della tribuna B. Vediamo un po', comunque nei prossimi giorni avremo un appuntamento con gli operatori della piazza. Una volta che avremo verificato esattamente come stanno le tempistiche daremo una risposta. Io da commerciante sono uno di quelli che mi faccio carico e penso ormai, vista anche la mia esperienza passata, di conoscere le esigenze di tutta la città e di tutte le attività che vi operano. Sarà nostra cura e nostra attenzione per mettere da parte queste paure e che diventi poi un'opportunità per tutti. Io mi incontrerò a breve anche con i quartieri per capire quelle che sono le esigenze per vedere e di creare meno disagi ma che poi alla fine questa manifestazione diventi un'opportunità per la città. La terza giostra del Saracino straordinaria dedicata al Giubileo della Misericordia ha acceso polemiche e diviso indubbiamente l'opinione pubblica. Alcune perplessità sull'edizione speciale sono state sollevate anche dagli stessi quartieri, le medesime ribadite anche dai rappresentanti dei gruppi giovanili. Secondo noi ci sono molte priorità che devono essere sistemate invece che cercare subito di fare una terza giostra. Per noi è stata una mossa molto azzardata anche perché noi alla fine siamo tutti volontari e quindi non ci è nemmeno sembrato giusto il fatto che non hanno ascoltato i nostri pareri. Io non è che sono contrario alla terza giostra discutibile, è sicuramente il modo in cui è stata fatta. Mi resta il fatto che è comunque bello che ci sia una giostra in più perché alla fine è una manifestazione la più importante della città e quindi è giusto. Sono contrario alla terza giostra per più motivi. Il primo motivo è che la tradizione, e non vedo né tradizione né straordinarietà, innanzitutto perché per il Giubileo una l'abbiamo già fatta e questo qui è un Giubileo anche poco partecipato e poco sentito. Poi se vogliamo anche analizzare tutta la conseguenza di una terza giostra che al giorno d'oggi con un quartiere che si prepara la giostra 365 giorni l'anno, correrne due in una settimana, secondo me è un azzardo grosso. O meglio, prima ci dovevano interpellare, dovevano sentire i quartieristi, i quartieri dovevano interpellare i quartieristi e poi dovevano esprimere il giudizio all'istituzione giostra. Il problema è appunto il non essere stati interpellati e aver fatto questa scelta senza pensare alle conseguenze che ci possono essere per ogni quartiere.